Musica Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi a Venaria. Io sono insieme ad Antonio Di Salvo, uno degli ideatori del progetto Un Motogiro per Unire, che si terrà domenica 7 aprile. Antonio, vuoi raccontarci tu, dirci due parole appunto su questa iniziativa? Nasce dall'idea di un gruppo di amici, che ad oggi io rappresento, cosa ci unisce a noi e da dove è nata, perché noi abbiamo una grandissima passione che è la moto, siamo tutti appunto motociclisti e come ogni anno nella stagione estiva pensavamo ai nostri classici giretti fra amici fino a se stessi. Grazie a un nostro amico comune, che è il signor Ugo, che è papà e fondatore del pronto soccorso autismo, abbiamo detto il mese di aprile è il mese dell'autismo. Quindi abbiamo colto l'occasione appunto per sfruttare questa opportunità e creare questo evento, il Motogiro per Unire. Il Motogiro per Unire appunto vuole essere una condivisione. I soldi appunto raccolti con questa iniziativa so che andranno anche a favore di un altro progetto. Sì esatto, come ho detto prima, tutto ciò che riusciamo a raccogliere, acquistando appunto e vendendo i gadget che daremo durante la giornata, andranno in beneficenza l'associazione Filos. L'associazione Filos che sostiene il progetto Pole Pole. Il progetto Pole è una navigazione di una barca dove all'interno appunto partecipano questi ragazzi autistici che partirà da Sanremo fino a Trieste. Il progetto appunto è per sostenere, per dimostrare che l'autismo unisce ragazzi, città, passioni come la nostra ed esperienze di vita. Qui con me c'è Tiziana Mastrosimone, la proprietaria dell'Osteria Alcantun di Venaria. Sarà presente anche lei appunto domenica 7 aprile. Al 7 aprile faremo questo evento qui nel mio locale, nella mia attività. Un progetto nato con i ragazzi della Biker, come Antonio ha anticipatamente spiegato questo progetto per all'arcoltafondi per ragazzi affetti d'autismo. A me è piaciuta molto questa iniziativa e quindi mi sono prestata con loro per la raccoltafondi. La giornata si svolgerà con il termine del giro in moto che faranno loro. Le 16 verranno da noi dove noi prepareremo un buffet e una parte del Ricar Battle lo devolveremo all'associazione. È un progetto molto interessante, è un progetto con una finalità ben precisa, noi siamo molto contenti. La nostra amicizia in comune ci ha portato a far sì che questa cosa venga fatta e ci teniamo molto. In collaborazione con Ugo Parenti, che è il papà di uno dei ragazzi, abbiamo pensato di fare una maglietta ricordo per questo evento perché così siamo riusciti comunque con la collaborazione della maglietta a dare altro contributo e sostenere l'iniziativa. Sarà una cosa emozionante, sarà una cosa bella e vorrei comunque anche ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e tutti quelli che ci hanno permesso di preparare tutta questa grande manifestazione. Ringrazio tantissimo Antonio e Tiziana, grazie davvero. Grazie a voi, siamo lieti di avervi con noi il 7 aprile e ringraziamo tutti, vi aspettiamo numerosi moto o pedoni. Tutti coloro che vorranno contribuire a questa causa fondamentalmente. Grazie, ci vediamo allora domenica 7 aprile. Quale iniziativa migliore come quella del progetto Pole Pole e di un periplo d'Italia che attraverso il mare possa far sentire tutti meno soli e più uniti? Da soli siamo riusciti ad arrivare fino a un certo punto, abbiamo bisogno anche di voi quindi se ci sono sponsor o persone che desiderano aiutarci potrebbero simbolicamente adottare una tappa. Adotta una tappa. Adotta una tappa. Adotta una tappa. Adotta una tappa, mi raccomando. Grazie. 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 Grazie.